Pane, biscotti, ricotta, tuma, formaggi di pecore e di capra, erbe aromatiche, nonché alcuni presidi slow food come le lenticchie di Villalba e il pomodoro siccagno della valle del Bilici, sono stati i prodotti agroalimentari esposti nella piccola fiera del cortile del liceo classico Ruggero VII, che ha così concluso il programma di educazione agroalimentare Gustiamo il territorio, organizzato dall'ESA, l'ente di sviluppo agricolo, con la SOPAT numero 42 di Caltanissetta, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti locali ma anche di creare le condizioni per far rinascere l'agricoltura nel territorio del centro Sicilia. Devo dire che il bilancio è estremamente positivo, in questo progetto il liceo classico si pone come fonte di cultura e di cultura delle nostre culture, infatti gli incontri che abbiamo fatti al di là della presentazione dei prodotti è stata la presentazione dei produttori, quindi come loro hanno intrapreso questa attività, qualcuno viene addirittura dal mondo, era occupato, faceva l'infermiere tipo Luca Cammarata e poi invece ha scelto di darsi l'allavamento delle capre con ottimi yogurt e formaggi. Oggi siamo in questo pomeriggio conclusivo in cui i produttori stanno esponendo tutti i loro prodotti e fare in modo che i genitori dei ragazzi che tramite i loro figli hanno conosciuto questi prodotti li possano acquistare e quindi diffondere la cultura di queste culture. A concludere l'iniziativa l'esibizione dell'ensemble musicale dell'Igeo Classico e Linguistico Ruggero VII diretto dal maestro Michele Petitto è il concerto del gruppo I Pupi di Sulfaro. L'entusiasmo sì è stato tanto ma è cresciuto via via nel corso di queste attività e sicuramente i ragazzi hanno mostrato a via via di apprezzare in pieno quello che era lo scopo di questa iniziativa. Pensavo e colletto in questi giorni che quando si prepara una pietanza o comunque facciamo un invito in quei pochi minuti o in quelle ore noi ci prendiamo cura della salute e del benessere dei nostri cari, quindi dei nostri amici e pensavo che in effetti questo si può proprio riadattare a quella che è stata l'esperienza di quest'anno con i nostri ragazzi perché nel programmare questa attività ci siamo preoccupati, in primo luogo proprio del benessere dei nostri alunni. E' stato questo messaggio pienamente compreso da loro, avevo una sorta di diffidenza all'inizio, non pensavo che i ragazzi si avvicinassero così facilmente ai nostri prodotti locali che preferissero così come diciamo con il dottore Tornatore al galbanino, la nostra tuma, i nostri formaggi. E invece è un luogo comune da cancellare, da abbattere lentamente magari, perché invece ho visto che i ragazzi hanno mostrato veramente buon gusto e mi viene proprio di sottolineare il gusto inteso proprio come uno dei nostri sensi nel significato pieno del termine.